Utilizzare le metodologie di lavoro organizzative tipiche dell'impresa, rendendole funzionali i valori del no profit per garantire sostenibilità economica a un concreto progetto di solidarietà, il tutto in un territorio particolarmente critico come il Sud Sudan. È il modello di Cesar portato avanti all'impresa di costruzioni Icop di Basiliano in Friuli, che attraverso l'associazione Sudin, che in friuliano vuol dire rimborcassi le maniche, ha aperto una scuola professionale battezzata col nome di Reneo Doud Vocational Trading Center. Abbiamo un'esperienza di una scuola di arti e mestieri che abbiamo fatto una decina d'anni fa nel Sud Sudan, che poi siamo riusciti e stiamo cercando di mantenere e portare l'autosostenibilità in collaborazione con le attività dell'impresa. Quindi ci sono delle attività economiche o dei lavori realizzati per conto della cooperazione, i cui proventi e i cui profitti poi vengono destinati al mantenimento dell'ONG, della realtà locale. Altre caratteristiche che rendono l'esperienza di Icop particolarmente innovativa sono l'indipendenza energetica della scuola, garantita da pannelli solari e da un impianto fotovoltaico, e la promozione di progetti connessi all'attività del centro in ambito agricolo, nella costruzione di pozzi ed edifici, e infine il sostegno alle esperienze di microimprenditorialità nate in seno alla scuola stessa. Questo consente di coinvolgere le persone che in questa scuola vengono istruite ed educate in attività lavorative, consentono di introdurre questi principi di impresa dal vero e non in vitro, e al contempo consentono forse di migliorare l'autosostenibilità nel tempo di queste iniziative. L'esperienza della Icop è stata condivisa a Udine nel corso della terza tappa del Tour Italiano alle rotte della sostenibilità, gli incontri di studio che il Salone della Siesarra e dell'innovazione sociale organizza in diverse città italiane in vista dell'appuntamento nazionale a Milano il 2 e 3 ottobre 2018. Una testimonianza che ha permesso sia di analizzare le criticità che affrontano chi opera in un contesto internazionale, sia di mettere a fattor comune le soluzioni trovate. Il luogo in cui lo facciamo, come ho detto prima, è il Sud Sudan, è molto complicato perché è una situazione molto difficile dal punto di vista del paese, ma noi non demordiamo e da dieci anni stiamo continuando in questa attività. Il progetto Icop ha ricevuto nel 2017 il Sudaita Social Award, un importante premio per l'attività di responsabilità sociale di impresa.